Da Foggia parte la campagna referendaria anti-trivelle a dare il via alla mobilitazione il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. D'ora in poi si va bar per bar, consiglio comunale per consiglio comunale, associazione per associazione, famiglia per famiglia a spiegare che bisogna andare a votare. La regione Puglia organizzerà e soprattutto finanzierà un vero e proprio comitato promotore pugliese assieme alle altre regioni. E' la prima volta in Puglia che la campagna referendaria e istituzionale, facoltà prevista dalla Costituzione, sarà una campagna sobria perché quella istituzionale non si presta a passerelle politiche. Il governo è in trans agonistica, sta prendendo diversi pali uno dietro l'altro e questo delle tre miti è il palo più grosso che ha preso sulla fronte. Dopo aver incassato per la prima volta nella storia d'Italia il referendum delle regioni che mirava a bloccare le ricerche petrolifere in Adriatico. Quando il governo ci farà capire bene cosa vuol fare noi siamo anche disponibili a parlarne perché non manca mai la disponibilità al dialogo. Ma tanto per cominciare, oggi comincia la campagna referendaria che ha un valore politico, indipendentemente dal quesito che pure è molto rilevante, quello sulla durata delle concessioni perché più durano le concessioni più i rischi per l'ambiente aumentano. È un valore politico che dice sostanzialmente questo, chiediamo al popolo italiano di sapere se pensano che per l'economia nazionale sia indispensabile mettere a rischio un bene secondo noi economicamente di ordine superiore che il nostro mare, sia a fini turistici che di economia, di cosiddetta blue economy. L'intervento del governatore ha concluso la manifestazione contro le trivellazioni in Adriatico preceduta dall'assemblea dei sindaci, organo della provincia, dalla riforma del Rio. 43 comuni rappresentati che hanno votato all'unanimità un ordine del giorno. Da fuori regione arrivano i presidenti delle province di Isernia e Campobasso, il vice sindaco di Termoli e il presidente del consiglio regionale della Basilicata, Piero Lacorazza, che sul referendum ha proposto di spingere per l'election day il primo giorno delle amministrative. I monti daoni sono in prima fila, ha defilato nelle retrovie il sindaco delle isole Tremiti, Antonio Fentini, che interverrà solo per un breve saluto. Il vice presidente della provincia, Rosario Cusmai, invita il governatore e i presidenti delle province a consegnare a mano al governo tutti i documenti fin cui prodotti. Parlamentari non ce ne sono, in una sala stracolma, soprattutto di istituzioni. Michele Emiliano va giù duro nei confronti del governo, ha deciso senza ascoltare nessuno, lui non è mai stato interpellato. Se avesse fatto un'istruttoria collettiva condivisa non ci sarebbe stato bisogno del referendum. Il silenzio ha costretto il referendum. A conclusione della mattinata a Palazzo Dogana, il governatore, prima di andare via, si ferma a ballare al suono delle castagnole del Gargano, con Marta Dell'Anno al violino e Peppe Totaro alla chitarra. I Tarantula Garganica, Inversione e Notriv, trascinano anche Michele Emiliano nelle danze, identità di un territorio che difende con le unghie e anche con la musica i suoi tesori.